In questo esercizio abbiamo una barca che attraversa un fiume con una velocità che è perpendicolare alla riva e pari a 10 kmh rispetto all'acqua. La corrente del fiume, quindi l'acqua, si muove con una velocità pari a 5 kmh verso destra rispetto alla riva. Viene chiesto di trovare la velocità della barca rispetto alla riva ed il tempo che impiega attraversare il fiume se questo qua è largo 3 kmh. Successivamente viene chiesto, viene posto una seconda parte del problema, chiede se la barca volesse approdare esattamente di fronte sull'altra sponda del fiume, in che direzione dovrebbe puntare e quanto tempo ci metterebbe ad arrivare in questo caso. Cominciamo a vedere il primo caso, quindi queste sono le due sponde del fiume. La nostra barca parte da una delle due sponde con una velocità che rispetto al nostro sistema di riferimento, che è quello dell'acqua, è orientata in modo verticale, perpendicolamente rispetto alle sponde e vale a un certo valore 10 kmh. Ovviamente questa è la velocità rispetto al mio sistema di riferimento che possiamo immaginare fisso sull'acqua, quindi questo sistema di riferimento è il mio sistema x' y' non primo, che è un sistema fisso con l'acqua, l'acqua si sta muovendo rispetto alla sponda dove possiamo immaginare fisso invece il nostro sistema x' y'. Quindi abbiamo due sistemi di riferimento, uno bloccato sulla sponda del fiume e uno invece bloccato sull'acqua, che quindi sono due sistemi in moto relativo uno rispetto all'altro. La velocità con cui si muove ovviamente è la velocità che ha la corrente, che sappiamo essere di 5 kmh verso destra, quindi questo sistema si muoverà con una certa velocità v con r che va verso destra, che è la velocità relativa appunto dell'acqua rispetto alla sponda del fiume. La nostra velocità è di 10 kmh rispetto all'acqua, quindi questa è la velocità che è perpendicolare alla riva e con cui si muove la nostra barca rispetto all'acqua, quindi nel sistema x' y' quindi questa si indica generalmente con v'. Dobbiamo calcolarci la velocità così come è osservata nel sistema fisso sulla sponda della riva, quindi la velocità della barca rispetto alla riva e vedere il tempo che impiega per attraversare il nostro fiume. Allora sappiamo dalle regole che legano le velocità in sistemi di moto relativi uno rispetto all'altro con una velocità relativa costante, che la nostra v, la velocità nel sistema di riferimento cosiddetto fisso, è uguale alla velocità v' che abbiamo nel sistema di riferimento in moto più la velocità v con r che è con cui il sistema di riferimento in moto si muove rispetto al sistema di riferimento considerato fisso. Questo ovviamente come relazione vettoriale. Quindi in questo caso la nostra v sarà la somma di v' e v con r, allora v' abbiamo detto è perpendicolare alle sponde, v con r sarà la velocità della corrente, quindi ovviamente è parallelo alle sponde, il nostro v' sarà la somma di questi due vettori, quindi sarà il nostro v, scusate, sarà questo vettore qua. Quindi intanto ci possiamo calcolare il modulo utilizzando semplicemente l'algebra vettoriale e in questo caso banalmente il teorema di Pitacola, il modulo di v sarà la radice quadrata di v con r al quadrato più v' al quadrato. Andando a sostituire quindi il nostro valore di 10 metri al secondo di 10 km orari e di 5 km orari, trasformandoli in metri al secondo otteniamo un valore di 11.18 metri al secondo. Poi possiamo anche ricavarci l'angolo, per esempio questo angolo teta, l'inclinazione rispetto alla verticale che ha la nostra velocità v rispetto a x e y. Allora questo banalmente anche qui dalle relazioni trigonometriche abbiamo che la nostra v per il coseno ad esempio di teta sarà uguale a v' in modulo, quindi questo, il potenso per il coseno di questo sarà uguale a v' e quindi il coseno di teta sarà semplicemente v' fratto v e quindi da questa relazione qua ci possiamo ricavare l'angolo teta che si può calcolare essere uguale a 26.6 gradi. Quindi questo significa che nel sistema di riferimento della sponda, il sistema x y, la nostra barca rispetto alla sponda ha una velocità pari a 11.18 metri al secondo e ha un'inclinazione teta rispetto alla verticale, quindi la nostra velocità sarà questa che ha una certa inclinazione teta rispetto alla verticale. Quindi rispetto alla sponda del moto della nostra barca sarà di questo tipo. Quindi quando vogliamo calcolarci il tempo che impiega, dobbiamo andare a vedere quanto tempo impiega a percorrere questo tratto qua, che è inclinato rispetto alla verticale di un certo angolo teta, sarà ovviamente un moto a velocità costante, quindi un moto rettilineo uniforme lungo tutto questo tratto. Quindi dobbiamo vedere quanto è lungo questo tratto e applicare la regola del moto rettilineo uniforme su questo tratto qua. Questo tratto ovviamente ha una lunghezza complessiva L, possiamo indicarla con L, se indichiamo con D la larghezza del fiume, questo tratto L sarà semplicemente D fratto il coseno dell'angolo, così quest'angolo qua. Quindi il nostro L sarà uguale a D fratto il coseno di teta, dove D è la larghezza del fiume che noi conosciamo perché sappiamo essere pari a 3 km. In questo moto lungo la diagonale abbiamo un moto rettilineo uniforme, quindi lo spostamento complessivo, il nostro L sarà uguale semplicemente alla velocità per il tempo impiegato a percorrere questo spostamento e quindi il nostro tempo T sarà semplicemente uguale a L fratto la velocità, ossia sarà D fratto il coseno di teta diviso la velocità che ci siamo calcolati che era questa velocità V. Quindi D sul coseno di teta per 1 fratto la velocità. Questo, d'altra parte, se uno se lo va a analizzare, siccome da questa relazione abbiamo anche che V è uguale a V' fratto il coseno di teta, quindi se questo lo andiamo a sostituire qua, quello che otteniamo è questo si può anche scrivere come semplicemente D fratto V', quindi come se considerassimo la sola componente lungo la direzione D e come se il moto avvenisse lungo questa direzione. È equivalente a dire che ci muoviamo in questa direzione ma facciamo più spazio con una velocità maggiore oppure meno spazio con una velocità minore. In ogni caso andando a sostituire qui i valori del tempo, otteniamo un valore di tempo pari a 1080 secondi, ossia a 18 minuti. Nella seconda parte dell'esercizio viene invece chiesto, nell'ipotesi in cui si voglia approdare esattamente nell'altra direzione, dove deve puntare la barca. Quindi siamo in queste condizioni, stiamo partendo da qua con la stessa velocità in modulo, quindi sempre 10 che la nostra V' sempre pari ai 10 km orari, solo che in questo caso vogliamo esattamente approdare da questa parte, esattamente di fronte sulla riva opposta, sulla sponda opposta. Questo significa che la nostra velocità V rispetto alle sponde, quindi rispetto al nostro sistema fisso, deve essere ortogonale. Ci ricordiamo che la V è comunque uguale, come abbiamo scritto prima, a V' più V con R. Quindi siccome questa, la mia V con R è sempre orientata parallelamente alle sponde, questa deve essere la V, la mia V' deve essere questo vettore qua, per costruzione, in modo che la somma di questo più questo mi diano esattamente V. Quindi questo deve essere V' e questo deve essere V. Quindi in questo caso la mia V' deve avere un angolo diverso, deve avere un certo angolo, non sarà più orientata rispetto alla verticale vista dal sistema di riferimento in moto sull'acqua, ma avrà un certo angolo, θ'', possiamo chiamarlo, e avrà anche ovviamente un angolo diverso e quindi verrà fuori una velocità V diversa. Quindi da questa relazione ci possiamo ricavare a questo punto quanto vale la nostra V in questo caso, perché V' è sempre la stessa, quindi ci possiamo ricavare la V. Qui ovviamente teniamo conto sempre delle regole dell'algebra vettoriale. Quello che possiamo fare utilizzando il teorema di Pitagora è che il nostro V' quindi questo risulta uguale alla radice quadrata di V' al quadrato più V' al quadrato e quindi da questo ci possiamo ricavare la nostra V, che è quella che vogliamo trovare, quindi la nostra V risulta uguale alla radice quadrata facendo gli opportuni calcoli di V' al quadrato meno V' al quadrato. Quindi da questo andiamo a sostituire e ricaviamo il nuovo valore della velocità V che è pari a 8.66 km orari. Quindi la velocità V che viene fuori conseguente è più bassa rispetto a quella di prima e soprattutto l'angolo, in questo caso l'angolo che è quello che dobbiamo calcolare, il teta prima a cui dobbiamo puntare in modo che la combinazione della velocità rispetto alla corrente e della velocità della corrente ci diano una velocità V rispetto alla sponda perpendicolare, la sponda stessa, l'angolo teta lo possiamo ricavare al solito da una relazione trigonometrica, poi abbiamo per esempio che V' per il coseno di teta sarà uguale a V e quindi il coseno di teta, teta prima, l'abbiamo chiamato sarà uguale a V fratto V', V ovviamente è sempre il valore che abbiamo appena ricavato e V' è quello che noi conosciamo pari a 10 km orari. Quindi teta andando a sostituire i nostri valori risulta uguale a 30 gradi. Quindi in questo caso ci dobbiamo muovere con un angolo di 30 gradi nel verso opposto a quello della corrente affinché la velocità risultante rispetto alla sponda sia perpendicolare e ci porti da questa parte. Il tempo impiegato a percorrere questo spazio ovviamente lo possiamo ricavare sempre dalle regole del modo rettilineo uniforme, in questo caso il tratto percorso è esattamente lo spostamento effettuato è esattamente D, quindi abbiamo che D sarà uguale a V per t e quindi in questo caso t sarà semplicemente D fratto alla nostra velocità V, D è sempre i nostri 3 km, la nostra velocità V ce l'abbiamo ricavata qua è 8,66 quindi 8.66, sostituendo ricaviamo un tempo pari a 0,34 ore ossia 21 minuti.